Quei pazzi sgravati del gruppo sub ne hanno combinata una, vi dico in breve, oggi farò una reaction al video di Seacolf sul mercato che farebbe per l'Inter, che è uno youtuber romanista, e perché nel gruppo sub mi è stato proposto questo tipo di contenuto, io in realtà ho declinato, cioè non ho mai fatto queste cose, quindi ho declinato e subito ho detto vabbè io vorrei fare le pagelle di fine stagione dell'Inter in realtà, no? Che ce l'ho già pronte lì, le farò domani a questo punto e ho provato a proporre questa alternativa, ma siccome la democrazia poi bisogna rispettarla, ho fatto un sondaggio e ovviamente mi hanno battuto su tutta la linea e ha vinto questo tipo di contenuto qui. Quindi adesso io accetto il verdetto e provo a sentire cosa è stato proposto e lo commento sperando che siano cose anche interessanti, idee che magari non mi sono neanche venute, chi lo sa, chi lo sa, si può sempre imparare. Vediamo un po', ovviamente poi commento le varie voci, le varie situazioni con quelle che sono i criteri giusti, reali, cioè le competenze che bisogna avere, tattiche, tecniche, economiche, di fattibilità e quant'altro. Quindi spero che sia interessante, mi sono fatto appunto editare il video così che sia più corto e vediamo, vediamo un po'. Iniziamo, ovviamente vi chiedo insomma di supportare il video, di farmi sapere cosa ne pensate, di lasciare like, di commentare, di condividere e di iscrivervi al canale insomma per così continuare a far crescere questa community. Anche perché ci sono delle novità, diciamo stare, andiamo avanti, allora, eccolo qua, io andrei con play, via. Aspetta un secondo, qui non so se c'è un discorso prima ma se si parla di budget, di mercato e più 50, non so cosa significa esattamente. Nel senso che non c'è un budget di mercato tipo FIFA, abbiamo 80 milioni da spendere e poi si fanno i, non so come si fanno i conti, adesso vedremo cosa intende. Però sapete molto bene come funziona il mercato, ha fatto molte volte vari approfondimenti con le varie voci, gli stipendi lordi, gli ammortamenti, commissioni, mille altre situazioni. E quindi, cioè, in realtà non esiste un budget. Il budget sono i costi generali che la società Inter può permettersi a fronte dei ricavi che ha. In realtà il budget sarebbe negativo, nel senso che l'Inter ancora ad oggi ha costi molto più alti rispetto ai ricavi, seppur aumentati per fortuna quest'anno, e quindi dovrà abbassare i costi. Questo significa che il budget, che però è probabilmente diverso da quello che intende lui, deve essere asciugato, nel senso che vanno tolti tutti gli scarti, si abbassano i costi e poi si vendono chi si vende chi, e poi in base al gap che hai tra costi e ricavi, quello puoi colmare con gli acquisti. Non so se chi mi segue da poco, magari è un po' confuso, mi segua di più, che avrete tutte le risposte a breve, perché ne parliamo spesso, di come funziona il mercato dal punto di vista reale, aziendale, economico, contabile. Perché è una cosa importante, non è una cosa noiosa, è una cosa che poi ci aiuta a capire come funziona il calciomercato. Quindi partire con più 50 mi fa un po' terrore. L'Inter è vero che è andato in Champions, ma non è che se andai in Champions sono soldi in più. L'Inter è in deficit costante, meno 140 l'anno scorso, meno 245 l'anno prima, quest'anno vedremo dove andremo a finire, sicuramente molto meno, però siamo comunque in deficit e quindi non c'è un più 50. Beh, partiamo male, però vediamo un po' cosa dice. Andanovic e Kordas, vi dicevo, ragazzi quest'anno è stato top, ma veramente top, e non ci sarebbe bisogno di sostituirlo, non ci sarebbe motivo per sostituirlo. E per quanto riguarda gli altri portieri, non credo nemmeno sia il momento di andare a prendere un altro secondo o un altro terzo. Kordas ha fatto una partita, ha fatto un miracolo, Andanovic ha un portiere che è ancora dell'Inter, che se non fa non ha nemmeno il contratto in scadenza. No, 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 aspetta, Andanovic ha il contratto in scadenza, cioè scade fra tipo 15 giorni, Andanovic, Kordas anche, tutti e due sono in scadenza, però Kordas probabilmente rinnova. Ma Kordas non perché ha fatto la parata o così rinnova, ma perché è un giocatore che è utile alle liste, le liste campionato, liste Champions, per quanto riguarda la burocrazia di iscrizione delle rose, e quindi per quello Kordas è prezioso. Poi è un giocatore esperto, non giocherà mai, ha fatto una paratona pazzesca, ma questo non vuol dire che sia un giocatore quindi forte o quant'altro. Non puoi valutarlo su una parata su tutta la stagione, può essere, poteva prendere una cappella e allora per quello era scarsissimo, bisognava darlo via. Un po' così, Kordas è un terzo portiere. Andanovic invece è in scadenza e bisogna vedere, cioè se lo rinnovi devi rinnovarlo a un prezzo molto più basso, perché adesso prende 2,7 netti mi pare, e sono tantissimi per essere un secondo portiere e soprattutto se ti tiene Onana, dove sono d'accordissimo, bisognerebbe cercare di tenerlo, però Onana sarebbe un titolare inamovibile, quindi Andanovic a 2,7 francamente anche no. Se si fa un rinnovo o si estende, spero che sia tipo a metà stipendio, vediamo, però non è in scadenza Andanovic. Adesso avrebbe anche poco senso, quindi io qua chiudo rapidamente dicendo Onana, Andanovic e Kordas mi va bene così, il bilancio mi resta 50 milioni di attivo e me ne volo tra i difensori. Attivo, magari, l'Inter è in deficit, no, vabbè. Kriniar va via a parametro zero, non è inutile che mi invento cose tipo cerchiamo di fare un tentativo in extremis, andiamo avanti, Bastoni si conferma, si conferma, si blinda, si blocca, l'Inter dovrà partire da Bastoni. D'accordissimo. In realtà si è fissato da 3,5-4, però l'Inter, da quello che si capisce, otterrà uno sconto, anche perché l'Inter ha tutta la volontà di stare all'Inter, la Lazio non ha la minima volontà di reintegrarlo in rosa, quindi penso che poi potrà avvenire all'Inter per cifre inferiori. Il diritto di riscatto è questi 3,5 milioni di euro per Acerbi, li spendo con il sorriso sulle labbra. Beh, io non li spenderei così, nel senso, sì, Acerbi è ottimo, io sapete quanto l'ho difeso dall'inizio, però se fosse 3,4 milioni per un 36enne già mi scoccerebbe un pochino francamente, perché se fai un contratto annuale hai un ammortamento di 4 milioni di retti su un anno, è un po' too much. Se non devi fare due anni di contratto, ma un 36enne, fai due anni di contratto con 2 milioni di ammortamento all'anno, un po' tirato, un po' tirato, per fortuna che l'Inter invece non lo riscaterà a 3,5-4, ma si pensa intanto a 2, che è già diverso. Quindi Acerbi lo prendo e me lo porto a Milano. Però sono d'accordo, eh, riscatto, giusto. Scade il contratto di D'Ambrosio e io lo lascio assolutamente scadere. Quindi vi spiego cosa faccio. Innanzitutto al posto di D'Ambrosio, che non gioca mai, mi prendo uno che può anche non giocare mai, ma a piuttosto punto su un giovane, quindi non spendo un euro, mi torna dal prestito va Neusden. Il problema del calciatore è che è sempre rotto. Ecco, questo è un problema, quello fisico, però insomma se dovesse essere rotto tutto l'anno avremmo comunque 5 centrali, cioè 5 tra centrali e braccetti, e quindi non sarebbe un grosso problema. Beh, oddio, come non sarebbe... Cioè, dice bene, nel senso, è corretto, è sempre rotto. È un giocatore che non è che è sempre rotto tipo un po' come Sensi, come Correa. No, è un giocatore che non gioca praticamente da tre anni. Sostanzialmente, Van Oysden, è un giocatore che non gioca da tre anni. Questo si è fatto degli infortuni allucinanti. Cioè, menisco, crociato di tutto, cioè cose veramente gravi, pesanti. Quindi, francamente, tenerlo in squadra, giusto perché fa la presenza in più, ma anche no. Cioè, l'Inter non può rimanere già a priori con 5 centrali perché sono più che sufficienti. Anzi, l'Inter è una squadra che deve battersi su tutti quanti i fronti. Abbiamo visto quest'anno, no? Già senza Skriniar, per esempio. Per fortuna che siamo adattati a Darmian, perché altrimenti è rimesso... eri con le pezze a non so dove e Darmian comunque, ma anche i acerbi, anche Bastoni, hanno dovuto stringere veramente la cinghia, non so come, i denti tantissimo e viva il cielo che nessuno di questi ha avuto un acciacco perché altrimenti erano azzi amari. Quindi no, io sono totalmente, mi dissocio da questo tipo di idea. Stiamo con 5 centrali, io e Van Oysen, chi se ne frega, tanto è in piazza D'Ambrosio perché poi D'Ambrosio più di qualche partita l'ha dovuta fare invece proprio perché eravamo a corto di energie a forza di giocare senza turnazioni. Poi c'è l'altra parte, cioè il titolare, che poi è titolare. Titolare che prenderebbe il posto di Darmian, sebbene Darmian in questo momento non avrebbe bisogno di essere scalzato. E proprio per questo vado a investire 35 milioni di euro più eventuali bonus e porto a Milano Scalvini. E quindi mi mettono i dollari Scalvini da braccetto destra e in questo caso io avrei Bastoni, Scalvini, Acerbi, Darmian, De Frey, Van Oysen e il bilancio in attivo di 11 milioni e mezzo di euro. Beh, allora, ovviamente il bilancio in attivo no, cioè non è in attivo. Siamo già in deficit, Scalvini ha un costo importante, 35-40 quello che sarà, ha un ammortamento quindi importante e lo stipendio sì non è molto alto, magari però è. Però per me non è il giocatore giusto perché, l'ho già detto più volte, per fare il braccetto c'è bisogno di avere caratteristiche che Scalvini secondo me non ha per giocare all'Inter, nel senso che è un giocatore forte Scalvini ma io lo vedrei in mezzo ai due centrali. È un giocatore estremamente lento, lento come Gagliardini, non sto scherzando, metterlo braccetto, tra l'altro a destra in un campionato dove ti scontri con Kostic, Zaccagni, Leao, Kvaraschelia e eccetera i multi mi sembra abbastanza azzardato. Infatti spero che l'Inter non vada per questo tipo di scelta per quanto sia un giocatore giovane, con potenziale italiano e tutto quanto però secondo me tecnico-tatticamente non sarebbe perfetto per quel tipo di ruolo lì. Lo vedrei bene invece se dovessimo l'Inter, ok no, De Vrij non lo rinnoviamo più, c'è Acerbi che è quello d'esperienza e prendiamo Scalvini, quello che rimpiazzerà magari Acerbi, che prende, Acerbi lo tutora, diciamo così, e Scalvini gioca in mezzo e lì potrebbe fare ottime cose perché ha i piedi per impostare, è alto, bravo di testa e soprattutto sarebbe difeso dai due centrali. Pensate, se qualcuno non ha ancora afferrato il concetto, pensate a Ranocchia. Quando giocò qualche volta a Braccetto, aiuto, si salvi chi può, perché era, diciamo, esposto alle scorribande, agli spazi aperti, quando invece ha giocato centrale, tutto sommato ha fatto il suo. Ovviamente non sto paragonando Scalvini e Ranocchia, però capite il concetto, spero. Quindi io non avvalerei questo tipo di mercato sulla difesa, né su Van Oysden, né su Scalvini in quella posizione, però, e soprattutto poi ha quel prezzo lì, tra l'altro. Terli sinistri, quell'Inter ha Di Marco, Gosens e Dalbert. Ve la faccio rapida, Dalbert va via, due milioni e mezzo di euro, ce la facciamo, lo cediamo, se è suo piano, lo cediamo. Come? Beh, è in scadenza Dalbert. Cioè, come fanno a pigliarselo a due milioni e mezzo, che è in scadenza anche lui fra quindici giorni? Va via a zero Dalbert. Anzi, forse, forse poteva andare via in gennaio, a questo punto, forse per un mezzo milione, un milione, non è arrivato neanche quello, e infatti va a scadenza, l'Inter non aveva interesse a avere una squadra, non l'ha neanche scritto in rosa, non è partito a gennaio a zero virgola, perché dovrebbe partire adesso che è in scadenza, fra quindici giorni, a due milioni e mezzo? C'è una cosa che non ha senso, comunque Dalbert non è neanche nell'Inter, e quindi no, non c'entra nulla. Il tifoso dell'Inter è il futuro capitano, secondo me, di questa squadra. Questo non lo so, però sono d'accordo che è perfetto. Io mi tengo anche Gosens. Allora, Gosens l'Inter l'ha già comprato, l'ha già comprato, non devo pagare nessun riscatto, perché il riscatto di Gosens è messo all'anno prossimo. Aspetta, un attimo di confusione. Se l'ha già comprato, ma riscatto l'anno prossimo, c'è quel quadra che non cosa. Gosens l'ha già acquistato, il riscatto è già scattato, tanto che a bilancio, numeri a bilancio dell'Inter, io sapete che ho fatto anche la lettura del documento, ancora 6-7 mesi fa, è a bilancio a 28 milioni, o 27 e mezzo, 28 e mezzo, non mi ricordo più, l'abbiamo letto insieme, quindi ha già il suo ammortamento, ha già il suo valore a bilancio e il suo ammortamento che sta facendo scendere il residuo a bilancio. Non a caso si parla di un Gosens che può anche partire proprio perché è già partito l'ammortizzamento del suo costo. Se avessimo ancora da riscattarlo non potremmo neanche venderlo perché varrebbe 28 milioni e chi è che se lo prende a 28 milioni? Nessuno. Quindi anche qua un po' di inesattezza. E tra l'altro Gosens, proprio perché ha un ammortamento comunque bello importante di circa 7 milioni, più lo stipendio, insomma in totale ha un costo annuale di 11-12 milioni a bilancio come impatto e sono tanti soldi per un giocatore che fa la riserva e che non è mai esploso. Quindi io non sarei d'accordissimo sul tenerlo. Per forza, non bisogna per forza buttarlo fuori, però se arrivasse un'offerta francamente ci penserei, soprattutto perché ci sono varie alternative a sinistra, varie coincidenze, fatalità in questa sessione di mercato, ci sono vari nomi, li faremo, presto faremo anche magari un video dedicato. Non vado a pagarlo, perché così è scritto, cioè il bilancio dell'anno prossimo non me ne frega, comunque non devo pagare. Forse non ha letto il bilancio, è scritto proprio così. Ce l'ho già, andarlo a vendere per cosa? Per fare una minusvalenza a Go? Quindi per me l'Inter così sarebbe a posto. Sulla fascia a sinistra c'era il sito di Marco Gosens e il bilancio inattivo di 14 milioni di euro. Passiamo a destra. No. Tra l'altro aspetta, 14 milioni di euro perché ha messo d'Albert a 2,5, perché era 11,5 mi sembra. Sì, sì. Quindi, dispiace, ma non ci siamo. Albert in scadenza. Aspetta, Lazaro. Quanti milioni ha detto? Sette, mi sembra. Perché Lazaro dovrebbe essere il riscatto più basso, dovrebbe essere intorno ai 5 o 5 o 6 massimo che è proprio alla fine quasi il residuo a bilancio che ha attualmente all'Inter. È in scadenza fra un anno, ma è proprio quello l'ammortamento, tra l'altro. Quindi va da sé che il residuo coincide con l'ammortamento in questo caso. Quindi la plusvalenza sarebbe tendente allo zero. Quindi non è che ti genera plusvalenza questa roba qui. Anzi, Torino sembrava che volesse anche uno sconto, quindi probabilmente lo venderemo a pari di bilancio e non c'è nessun tipo di plusvalenza. C'è al massimo, forse, una riduzione dei costi rosa perché perdi un bene che hai ammortizzato e quindi ok. Quella cifra là, che è la stessa che mi servirebbe per andare a riscattare Bella Nova. Quindi al momento... Sì, però non funziona. Cioè, sembra che così il mercato sia di FIFA. Cioè, come FIFA, no? Vendo, cioè, su FIFA o anche PES, come è che funziona? Vendo un giocatore a 20, ho quei 20 lì direttamente sul budget nuovo e compro uno a 20. Ma non funziona così. Non funziona così la contabilità, non funziona così un'azienda calcistica, ma nessuna azienda, neanche in altri settori, non funziona così la compra vendita dei beni. Io me lo tengo. Lo riscatto 7 milioni e me lo tengo. Comunque sono d'accordissimo, eh. Bella Nova riscatto, sono d'accordissimo. Assolutamente. Relativo a Dunfries, che è sempre l'uomo mercato, cioè quello che deve partire, quello che l'intercederebbe. Io al momento, vi dico la verità, non penso che Dunfries possa valere così tanto da poterlo poi rimpiazzare con quei soldi. Questo è il mio ragionamento. Vi dico anche quello che faccio. Cioè, poi, rimpiazzare con quei soldi, appunto, non funziona come FIFA, quindi se tu vendi Dunfries anche solo a 40 milioni, fai una presovalenza di 32-33 milioni che servirebbe comunque all'Inter, perché all'Inter serve una presovalenza per discorso di costi di cavi già anticipato prima, e il budget che libera Dunfries, a parte la presovalenza che vai a fare, è il suo costo in rosa annuale, che è di 7 milioni a spanne tra ammortamento, ingaggio, lordo, perché ha il decreto crescita. 7, 8, se non vorrei, vado un po' a spanne. Si può rimpiazzare Dunfries comunque più o meno con quei costi lì. Onestamente, non ci sono tantissimi nomi, ma qualcuno ce n'è. Anche cose improbabili, ma che non si sa mai, vedremo nei prossimi giorni. Cioè, si può fare, anche perché poi i costi non sono solo uno a uno, tolgo Dunfries e prendo un altro, ma è l'insieme dei costi rosa. Per quello che il budget non va fatto in quel modo lì, va fatto con l'insieme dei costi rosa, perché se tu perdi Lazaro, Dalbert, Cosa, Galliardini, da una parte, e perdi Dunfries, e prendi uno che costa annualmente uno, due, tre milioni più di Dunfries annualmente, hai comunque abbassato i costi, perché i costi sono l'insieme dei costi singoli dei giocatori. Non conta il singolo uno a uno scambio, ma conta l'insieme dei costi della rosa. Quindi, diciamo che siamo fuori logica, ecco, in realtà. Perché mi tengo Dunfries e vado a prestare Zanotti, che sta facendo il mondiale Under 20 con la nazionale. Nella mia idea, in futuro, c'è un Bellanova che il prossimo anno esplode completamente. Beh, anche se, cioè, sapete quanto Justin vive la nova, quindi, anche secondo me ci sono potenzialità. Pronto a diventare all'alternanza con Bellanova, il giovane da, diciamo, lanciare. Su questo sono già meno d'accordo, nel senso che io non vedo in Zanotti un quinto perfetto per quello che servirebbe all'Inter, non ci vedo tutta questa classe, questo talento attualmente. Mi ricordo uno di quei classici giocatori, come Emmers, per esempio, che fanno un po' la differenza nell'Under 20 perché hanno quella grinta, quella tenacia, quindi lì ok, però poi cresciti, ti vai a confrontare con giocatori che hanno la tua stessa fisicità, grinta o quant'altro e non fai più la differenza perché poi la classe o altre cose magari non le vedo così spinte. Poi, o può crescere, quando sei giovane puoi sempre avere margini per carità, non sto dicendo che un giocatore è scarso o che si ferma lì, può anche crescere, però io non scommetterei ecco su Bellanova che diventa titolare e poi Zanotti che fa la riserva. Vedremo durante l'anno però sarei di un altro avviso onestamente. non è più il momento di perdere per l'Inter non è più il momento di perdere certezze per l'Inter quindi io mi tengo le mie certezze perché non ho bisogno in questo momento di far soldi e parto da lì. Come non ho bisogno di far soldi? Cazzo, l'Inter ha bisogno sì di far soldi meno rispetto a quelli che si pensava perché abbiamo fatto un bel percorso in Champions ma comunque nonostante la Champions l'Inter è in deficit di bilancio quest'anno bisogna vedere quanto vedremo le stimi ufficiali fra un po' di tempo dipende anche da chi verrà ceduto entro il 30 giugno se verranno fatte delle cessioni ma dall'anno successivo dall'1 luglio comunque l'Inter ha bisogno di fare plusvalenze magari meno perché dipenderà da quante sono i costi rose dell'anno prossimo spero vengano ridotti drasticamente c'è la possibilità di farlo l'ho già dimostrato e quindi magari si potranno fare meno plusvalenze ma c'è bisogno di fare plusvalenze perché i costi sono troppo alti ancora attualmente e non è che puoi buttarli giù dimezzarli in un anno ovviamente quindi è una cosa progressiva ma nel contempo che vai giù progressivamente con i costi hai bisogno di sostenerli con le plusvalenze primo per un principio di un vincolo di realtà secondo per un discorso anche di sostenibilità economica e terzo perché c'è un set element agreement a rispettare che altrimenti prevede delle sanzioni e dei problemi eccetera eccetera quindi mi sembra che è come se fossimo un po' avulsi dalla realtà in questo momento speriamo che prosegua meglio diciamo così il video del mercato perché altrimenti per me questo non è il mercato che farei è il mercato che non farei probabilmente con l'Inter nel senso che vediamo però andiamo avanti ovviamente in mezzo al campo l'Inter ha Cialanoglu Barella Brozovic Mkhitaryan Gagliardini e Aslani allora qua farei una mini rivoluzione parto da Cialanoglu non si tocca Cialanoglu mi servirà sia per fare il mediano sia per fare la mezzala lo risposterò a fare la mezzala ma in realtà questo è un discorso andrò a prendere un giocatore che può fare lui sia il mediano che la mezzala Barella Mkhitaryan perché uno perché è possibile andare a vendere Mkhitaryan cioè che cosa fai 2 milioni ha 40 anni e due perché quest'anno ragazzi Mkhitaryan è partito un po' in sordina poi è stato decisivo il calciatore che andrà a vendere per una trentina facciamo 35 milioni di euro è Brozovic io voglio un bene dell'anima per me è veramente tanto forte però è arrivato a 30 anni innanzitutto aggiungiamo questa cosa qui c'ha un anno di contratto che potrebbe tranquillamente prolungare perché lui all'Inter fermi ero d'accordissimo c'è la Noglu Barella Brozovic ha anche anche io gli voglio un sacco di bene lo reputo uno dei migliori davanti alla difesa però per una serie di motivi proprio perché l'Inter deve vendere e se non vendi uno devi vendere un altro se non vendi l'altro devi vendere l'altro proprio perché vorrei tenere Barella all'autaro e tutto le alternative sono due non hai venduto neanche Dumfries sei un po' vabbè quindi sei un po' attirato comunque forse dovresti vendere tutti e due Brozovic e anche Dumfries però sono d'accordo su Brozovic giocatore che mi piace tantissimo vorrei non rinunciarci però se l'alternativa è perdere un'ana preferisco perdere Brozovic che ha 31 anni che prende 6 milioni netti a stagione che si può rimpiazzare perché ci sono altri giocatori sul mercato anche non in quel ruolo ma come sapete ormai che tutto sommato non ci farebbero disperare per la dipartita di Brozovic però scade il 2026 il contratto non scade l'anno prossimo quindi anche qui un'altra Andanovic ciccato Dalbert non c'è da niente perché anche lui in scadenza Brozovic in scadenza ma in verità no perché il 2026 un po' di cose da rivedere tra l'altro Brozovic ha 31 anni se fosse in scadenza nel 2024 cioè fra un anno di certo non lo puoi vendere la 35 come giustamente ipotizzava lui forse 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 riusciamo a vendere la 30 35 se in scadenza del 2026 figuriamoci 2024 tra l'altro io sento cifre tipo 25 milioni mi fanno venire poi i conati spero che Davrozovic ricavi di più perché la stima mia è importante su questo genere di giocatori però no non è in scadenza ha rinnovato a novembre 2022 quindi che senso ha che sei mesi fa abbia rinnovato di un anno non ha senso scade il 2026 Brozovic basta controllare però va bene però c'è un anno di contratto secondo me qualche squadra di Premier League pagherebbe oro per avere in mediana un calciatore come Brozovic Gagliardini è arrivato a scadenza di contratto lo saluto e lo lascio andervi a parametro zero meglio qualche giovane Aslani io ragazzi Aslani me lo sarei tenuto ma Inzaghi Aslani non lo vede mai se tu non ti vedi di Aslani manca a dargli 20 minuti nelle partite in cui sei in vantaggio 3-0 allora vuol dire che tu è inutile che ti tieni il mediano albanese in squadra che però per me è molto forte per questo io fossi nell'Inter andrei a prestare Aslani vabbè ci può stare quest'idea allora ci sono un po' di attenuanti da dire però nel senso sono d'accordo generalmente Aslani ha giocato molto poco troppo poco rispetto a quello che avrebbe potuto giocare sono d'accordo anch'io però è anche vero che ci sono un po' di attenuanti cioè Mkhitaryan era inscalzabile nel momento in cui ti manca Brozovic è normale che a Bassi ce l'hanno Glumetti Mkhitaryan e Td Barella cioè che discorsi infatti ha funzionato il centrocampo anche così no e abbiamo anche scoperto un Ciala dietro eccetera quindi è normale che Aslani poi non abbia il posto perché ci sono questi tra davanti uno potrebbe dire ma Gagliardini ha giocato però si Gagliardini però appunto ha quelle caratteristiche diverse che ogni tanto magari potevano servire il punto è che bisognava avere uno come Gagliardini che non fosse Gagliardini semmai più forte più bra ed è per quello che io punto su chi sapete no però quello è un altro è un discorso tattico ancora quindi capite è un discorso gestionale che poi si addentra un discorso tattico e quindi per una serie per una serie di motivi non ha giocato molto sì avrebbe potuto giocare comunque ogni tanto qualcosina in più è anche vero onestamente che per quanto io veda che ha qualità Aslani è anche vero che quelle volte che comunque è entrato si vede che deve ancora un po' crescere nella lettura dell'azione nel dettare i tempi nel capirli quindi ci sta che abbia fatto un anno di ambientamento e molto giovane a 20 anni e che abbia imparato da chi e magari l'anno prossimo in realtà proprio perché quest'anno ha fatto un po' di adattamento l'anno prossimo magari ci si può veramente puntare come vice vero soprattutto se parte Brozovic cioè in realtà la politica dell'Inter con Brozovic fuori avrebbe senso proprio in virtù che vuole puntare su Aslani perché abbassi Ciala e l'unico vice è Aslani e quindi in quel modo lì ti imponi di puntare su Aslani quindi in realtà l'Inter ha quasi sconfessato la paura che ha espresso lui che in Zaghi non ci punti se ci pensate bene poi vedremo cosa succederà poi ci sono altri calciatori che devono partire ovvero torna Sensi 8 milioni di euro il suo valore lo vado a cedere in realtà quest'anno si è rotto molto poco e ha fatto molto bene però per me non è abbastanza sono d'accordo è Agumet che ha un valore dei cartellini di 7 milioni se arriva qualcuno che mi offre 7 milioni gli impacchetto anche Agumet lo abbraccio a volte e lo saluto non so se offrono ho 7 per Agumet francamente però sono d'accordo lo impacchetterei e lo vendrei io l'ho un po' seguito ragazzi non è a livello sappiatelo detto questo che cosa vado a fare quello che prendo per sostituire Gagliardini Fabian quest'anno ha fatto benissimo ragazzi Fabian ha fatto benissimo per sostituire invece che poi Fabian potremmo pensare che venga ci sta eh Fabian per Gagliardini ci può anche stare che vado benissimo in serie B con ritmi diversi però ci può stare un giovane ci può stare anche se in realtà devo dire l'Inter avendo bisogno di fare plus valenze magari non volendosi di potenziare i giovani spesso li cede proprio perché così non vendi il giocatore che non vuoi vendere perché sennò ovvio che uno dice vabbè vendo Barella facile no faccio 80 milioni ho sistemato e via però perdi Barella c'è nel senso no quindi ovvio che preferisci perdere altri magari non così fondamentali prima chiaro però vabbè questa è un'altra storia per sostituire l'altro che sia Aslani o Gagliardini ma in realtà per essere il vice di Mkhitaryan quindi per essere il calciatore che parte da mezzala ma diventa offensivo che svaria sulla tre quarti spendo 18 milioni di euro e vado a prendere dall'Empoli il compagno di Aslani ovvero Baldansi ma non è lui a parte che 18 milioni di euro mi sembrano un po' pochini francamente mi sembrano dei valori un po' così come quelli prima da Albert un po' precisini mi sembrano un po' pochetti francamente 18 per Baldansi hai pagato 16 Aslani che non era il top dell'Empoli Baldansi è di fatto penso il top dell'Empoli attualmente penso che 18 siano un po' pochini francamente quindi forse più sui 25 è già un po' diverso quindi sono tanti soprattutto perché c'è Gagliardini è impazzato con Fabian vabbè ma chi è che rimpiazzi Aslani che comunque se anche lo dai via in prestito non è che ci guadagni i soldi ci tieni tu comunque l'ammortamento e tutto e in più compri un altro cioè mi sembra un po' too much tra l'altro Baldansi ha già caratteristiche che abbiamo già in rosa perché c'è la Noglu Mkhitaryan Barella sono giocatori che già brevi linei di qualità eccetera eccetera quindi l'Inter invece proprio è proprio il motivo per cui ha giocato spesso Gagliardini pur essendo giocatore sotto livello manca invece di centimetri manca invece di altre caratteristiche quindi Baldansi mi sembra un po' una come si dice una cosa un po' mi manca il termine una ripetizione ecco una cosa un po' un po' forzata però vabbè è un giovane mi piace per qualità però forse lasciarei stare il grande colpo lo prendo in prestito con diritto di riscatto perché la formula questo consiglia ed è Frank che si dal Barcellona questo vi dicevo all'inizio perché perché se tu tieni che si e tieni un mediano e una mezzala aspetta però io ho visto che è diventato un più 46 come mai perché è venuto Brozovic vabbè non funziona così abbiamo già spiegato non funziona così in realtà se prendi che si per esempio aumenti i costi rosa perché se vendi Brozovic che attualmente pesa solo per lo stipendio perché l'ammortamento è zero pesa tipo 11 milioni che si prende 5 non ha il decreto crescita prende 6 netti non mi ricordo più metti che ne accetti 5 all'Inter sono già 9 milioni e mezzo lordi poi mettici il prestito o l'ammortamento se lo compri direttamente vai almeno a 15 16 milioni quello che è francamente perché si non mi svenerei a tanto e poi tra l'altro a questo punto adesso sentiamo un po' come li metterebbe in campo però che si a me non fa impazzire ecco in realtà lo vedo più lo vedo perfetto per giocare a 2 a centrocampo tipo in 4 4-2-3-1 perché una mezza via tra un mediano e una mezzala però all'Inter forse servirebbe un altro tipo di giocatore avrebbe bisogno di un giocatore che va dentro l'area che si inserisce che si butta dentro che ha gamba che ha velocità magari oppure oppure se vuoi tenerti vuoi comprare un mediano un mediano come Brozovic che sa gestire la palla muoversi molto e via no un mediano e una mezzala perché che tu mette che si mediano lo può fare l'ha fatta sì lo può fare ma non lo fa come lo fa Brozovic o come lo farebbe Celanoglu o come in generale avrebbe bisogno che l'Inter cioè di come l'Inter avrebbe bisogno che fosse un mediano diverso è giocare a 2 diverso giocare come mediano singolo davanti alla difesa che deve impostare muoversi essere veramente un regista mobile come l'Inter usa quel tipo di ruolo lì quindi che si mediano l'Inter non mi farebbe proprio impazzire e penso che sinceramente Inzaghi non lo penserebbe minimamente mediano Milan ma se lo metti in mezzala lo può fare l'ha fatto al Milan sì l'ha fatto in mezzala si può fare no cioè in realtà quel bilancio è negativo abbiamo solo aumentato i costi tra Scalvini Baldanzi che sì stiamo aumentando i costi e non li abbiamo abbassati attualmente più di tanto quindi non va tanto bene nel caso dell'Inter col patrimonio netto negativo di 86 milioni che adesso sarà ancora meno perché faremo un altro deficit cioè vuol dire avvicinarsi velocemente con l'acceleratore verso il fallimento sinceramente se non voglio spaventarvi ma per fortuna che non succederà quello che credo spero che non succederà quello che è stato proposto qui altrimenti l'Inter veramente poi bisogna credere al New York Times che ha scritto un sacco di cazzate sappiatelo in precisioni e rischia fallimento l'Inter ha Lautaro Dzeko Lukaku e Correa ricordiamo che l'Inter qui davanti gioca a due e come vedete dai 46 milioni di euro in basso ho ricaricato il budget sì come la carta precaricata no il budget attualmente è in sofferenza hai fatto una plus valenzina con Brozovic che poi 35 è troppo in realtà sarà anche meno ma non è sufficiente minimamente e i costi sono addirittura forse aumentati a spanne adesso qui non ci sono i costi perché in realtà non li ha conteggiati i costi i giocatori hanno un ammortamento hanno uno stipendio hanno delle commissioni ogni giocatore che acquisti o che ha in rosa e probabilmente i costi a spanne adesso dovrebbero essere aumentati addirittura quindi ammazza cioè peso partirei da qua che Lautaro non si tocca che Adin Geku non si tocca assolutamente che Correa se riesco a cederlo aspetta Geku non si tocca ma Geku non si tocca vuol dire fargli un rinnovo a 5 milioni netti quello che lui chiede cioè uguale a quello che prende adesso è un po' too much perché comunque più va avanti più è una riserva c'è poco da fare io lo toccherei come Geku a meno che non rinnovi a 3 e mezzo allora magari se ne può parlare ma altrimenti francamente lascerei stare ed è quello che mi sembra l'Inter stia pensando di fare perché si sentono voci di Geku che va in Arabia o quant'altro o in Turchia sinceramente sarei d'accordo così altro che non si tocca per quanto io stimi Geku ho un matto che mi dà 15 milioni lo prendo lo impacchetto e glielo regalo lo sai invece Lukaku e quindi significa aumentare i costi ancora che la minusvalenza se la presovalenza è un aumento dei ricavi netti di fatto la minusvalenza è un aumento dei costi perché la minusvalenza va nel reparto costi del conto economico quindi vuol dire che hai già aumentato i costi di più hai una presovalenzina a Mignot e adesso gli aumenti ancora di più facendo la minusvalenza con Correa anche qua peso forte con il Geku che lo rinnovi tra l'altro no qua siamo allarme rosso devosso di Lukaku è devastante Lukaku è devastante però qua annoie pare è devastante è stato per sette mesi a dormire vedevo di anche altre situazioni a dormire si era fatto male ci sta succede il punto è che come sapete Lukaku è stato preso a una cifra esagerata per essere un prestito perché 8 di prestito più 11 e quant'altro di stipendio lordo è veramente troppo per essere un prestito e tutto quello che ci va dietro non aveva senso quello fossero state cifre un po' più contenute sarebbe stato ottimo io spero tanto l'Inter vuole rinnovare il prestito spero che lo faccia a cifre più contenute se lo fa a cifre più contenute si può anche fare se rinnova vabbè non è un problema soprattutto perché perdi Correa perdi a punto Geku ci sta non perdere tutti e non svalvolare tutto quindi ci sta Lautaro che rimane e Lukaku che proviene da tenerlo però a costi ridotti ovvero che torna Satriano Satriano lo cedo 10 milioni di euro non so se Satriano 10 milioni te lo prendono francamente mi sembra anche qua un po' too much cioè è un po' si danno un po' le cifre un po' così un po' come convengono per avere il budget che è così per poi fare cose no cioè la realtà non funziona così purtroppo purtroppo sarebbe bello cedere Brozovic a 40 vorrei io ma non si può fare siamo fortunati se ne arrivano 25-30 da quello che si sente in giro sarebbe bello cedere a Satriano 10-12-15 quello che è ma dalla stagione che ha fatto siamo fortunati se riusciamo a darlo via a 7-8 ma forse e forse se lo mettiamo dentro all'Empoli comprando un altro che spero che non arriva vicario perché vuol dire che parte onana forse così riesce a quotarlo quei milioni lì perché altrimenti non lo cedi a 10 Satriano francamente quindi un po' di fantasia un po' di fantamercato ti posso mettercela l'Inter lo fa sempre magari ce la metta a 20 beh oddio cederlo a 10 poi non sarà a 10 a 8-7 per metterla alle compraventi è un po' non è una genialata e nei prossimi 3 anni però Satriano lo vado a cedere non ha dimostrato di essere un calciatore all'altezza è ancora giovane ma io ho bisogno di vincere adesso quindi Satriano ti ringrazio ciao torna Males credo si dica Males 5 milioni cedo anche lui no aspetta Males ha un diritto di riscatto a 3 e mezzo se non erro al Basilea ed è un riscatto che faranno quindi saranno 3 e mezzo non saranno 5 anche lì mulattieri gli voglio ancora dare un po' di possibilità e lo vado a prestare i due calciatori che vado a prendere sono un super giovane che sarebbe il vice di Lautaro e un titolarissimo che sarebbe quello davanti a Edin Dzeko e che giocherebbe in coppia appunto con Lautaro però se finiamo qui le cessioni tutto siamo già fuori cioè adesso c'è lì budget così ma è sbagliato non esiste quel budget lì siamo già insostenibili cioè siamo già troppi costi non hai fatto le cessioni necessarie sei già messo veramente male cioè poi a meno che non arrivi nuovo in finale di Champions però non è che puoi pensare sempre che fai Coppa Italia Supercoppa Champions qualificazione campionato e in più arrivi sempre in finale no ovviamente quindi siamo fuori cioè non siamo sostenibili così non va bene il vice Lautaro quindi lo vado a pagare io ho segnato 10 milioni più bonus in realtà anche se poi va capito ed è Pafundi e voi direte sic ma ti danno Pafundi per 10 milioni non lo so raga su Transfermax vale 2 milioni aspetta abbiamo Lautaro Gecko che Gecko ormai comincia un po' declinare e prendiamo Pafundi come vince Lautaro cioè Pafundi quant'anni ha 17 18 abbiamo appena detto che l'Inter deve le certezze deve vincere le tre competizioni e quant'altro a parte la difesa che è scalcagnata nel senso che mancano giocatori un po' così siamo già corti il centrocampo che non mi convince però vabbè prendiamo Pafundi il vice di Lautaro cioè se Lautaro ha qualche problema abbiamo Pafundi cioè nel senso con tutto rispetto non siamo la Roma volevo fare la battuta o l'Atalanta o quello che voleva non ci mancherebbe altro anzi la Roma io adesso stando qui mi interessa anche mi sta anche simpatica quindi era una battuta assolutamente affettuosa però ecco siamo l'Inter abbiamo uno status europeo siamo appena andati in finale di Champions e prendiamo Pafundi come vice Lautaro tutto questo questo sarebbe il vice Lautaro Martinez quindi qualcuno parlava siamo messi male cioè a sto punto più che rete gui è meglio Pafundi fammi capire aspetta mi prenderei Pafundi ammazza cioè bella bella pesante questa io no non sono d'accordo però cioè nel senso poi Pafundi magari può crescere per carità e quant'altro non di statura perché a un metro sessantotto quello rimane però come valore sicuramente sì può crescere è un giocatore che magari ha qualità assolutamente però l'Inter attualmente ha bisogno di un po' più garanzie come vice Lautaro con tutto il rispetto di Pafundi che può avere veramente potenziale ma no non ci siamo prendo uno veramente forte perché a questo punto io avrei mi rimane anche un milione in realtà ma avrei no ti rimane un milione ci siamo proprio sotto vabbè chiudiamo Baracca Burattini canto del cigno con la finale di Champions dall'anno prossimo tutti in barca a fare a Venezia a fare il come si dice il campionato triveneto neanche nazionale serie di Cina il triveneto facciamo andiamo in fallimento e dal Manchester City Julian Alvarez il Julian Alvarez un transfermato intanto vale 50 milioni quindi io ne ho messi 15 in più perché so che il City ce lo farà pagare come il sugo di caramelle e io credo che sarebbe ma perché dovrebbero venderti Julian Alvarez il City che è corazzata che non ha bisogno di soldi e tutto quanto a posto è perché dovrebbero venderlo a te che è comunque il giocatore su cui hanno creduto e è cresciuto e tutto non so che stipendio abbia o quello che può andare a chiedere però la cifra di cartellino è alluginante anche forse solo 65 milioni non si può fare siamo appunto fuori completamente oltre a questo aggiungo che c'è anche un problema tattico secondo me perché se hai nel 3-5-2 Julian Alvarez Lautaro Dzeko Pafundi Pafundi è un metro e 68 si può fare la seconda punta non è a livello l'ho detto prima non bisognerebbe possiamo stare sbagliato però come caratteristiche vabbè Lautaro sappiamo che è una seconda punta sì che fa gol ma comunque non può fare da pivò Dzeko non è più all'altezza di poter giocare titolare effettivamente vuol dire che la coppia titolare è Lautaro Alvarez davanti cioè non hai più fisicità praticamente non hai più non hai più centimetri in area non hai più peso cioè ripeto siamo l'Inter l'Inter non può giocare col falso 9 con le punti di movimento e via l'Inter deve deve fare gol deve portare peso in area spesso ha molto possesso crea tantissime azioni ha bisogno di bomber l'Inter di centravanti infatti non a caso abbiamo Lukaku Dzeko Lautaro Correa no come caratteristiche poi Correa partirà quello che volete però come caratteristiche servono due seconde punte anche con caratteristiche mani diverse uno che segna di più uno che va più in profondità l'altro che accorcia che viene dietro che si allarga che gioca tecnicamente che manda dentro gli altri però due seconde punte e due fulcri di gioco cioè due bomber di stazza che abbiano centimetri che possono far salire la squadra che possono anche venire in contro e smaltire i palloni e che possano avere anche centimetri per i traversoni che arrivano perché giochiamo con un 3-5-2 quindi secondo me diciamo questa proposta di mercato me l'aspettavo un po' diversa però invece invece devo dire che non è né sostenibile economicamente assolutamente e né tatticamente un po' in tutti i reparti forse si salva un po' il centrocampo però non mi cioè io prenderei su altro onestamente e vabbè la porta ovvio cioè bene quella ovviamente ma non come ha detto lui rinnovo cioè perché ha il contratto che va avanti ancora un anno no è scadenza quindi rinnovo se è più basso va bene con un anno che rimane ok su tutto il resto ho grandi perplessità tecnico tattico tecnico è pafundi diciamo tecnico tattico di efficienza di funzionalità di gioco di come gioca l'Inter e tutto e soprattutto economico non ci siamo proprio più zero per l'Inter perché avresti il tuo compagno argentino e continueresti appunto nell'Inter anche tra l'altro e questa cosa la aggiungo a fare quella storica colonia argentina che ha sempre vabbè facciamo il mercato per fare la colonia argentina che secondo me sarebbe tanta tanta roba avremo davanti Lautaro Giuliano Alvarez ma fondi già con il bilancio in attivo di un milione no bilancio è proprio da chiudere baracca a bulattini e vendere anche le panchine perché se no si sprofonda adesso andremo a vedere la formazione che secondo me sarebbe molto molto figo ma non sarebbe affatto infattibile no è infattibile e non è neanche figo secondo il mio parere tecnico tattico come ho detto prima e non sarebbe neanche sostenibile comunque la formazione è questa Scalvini Darmian che non mi convince per Scalvini di che ho già spiegato Acerby Van Oysden ma non esiste Van Oysden tra l'altro centrale Van Oysden no non è un centrale ma casomai può fare più un braccetto ma poi è sempre rotto non ha senso tenerlo De Vrij braccetto sinistro non se può vedere giusto per fare un po' alla romana non esiste De Vrij già braccetto destro fa fatica figuriamoci sinistro è un centrale assoluto anche lui un po' giocatore un po' più lento non a caso gioca in mezzo come Scalvini quindi torna tutto qua quindi la difesa da rivedere il centrocampo Dunfries Bellanova ci stanno però Dunfries c'è bisogno di cassa non si può tenere c'è qualcosa che non quadra non è sostenibile la cosa Cialanoglu a destra Cialanoglu no Cialanoglu a destra dall'altro sbagliato Cialanoglu a sinistra per sfruttare anche il suo tiro e quant'altro quindi no sbagliata la posizione e anche Baldanzi non mi convince centrale che sì mediano non si può vedere che sì e Mkhitaryan centrale mediano centrale proprio non ha il minimo senso questa è un'altra cosa che aiuto non avevo capito che intendesse Mkhitaryan siamo fuori completamente e Barella a sinistra con Cialanoglu non ha senso perché Barella ha quel punto di sfruttare gli inserimenti a destra quindi no e Fabian anche a sinistra non ha senso però vabbè ci può stare a posto di Gagliatini però non a sinistra insomma a sinistra Di Marco Gosens già detto prima Lautaro Pafundi non si può vedere Julian Alvarez con Lautaro neanche con Jacob niente non approvo su tutto il fronte ragazzi cosa mi avete fatto vedere nel senso secondo me potrebbe andare bene forse per il fantacalcio o per altre piattaforme cioè per FIFA così però non è realistico ecco non è realistico cioè questo è proprio il mercato che non farei e che comunque sono sicuramente tranquillo che l'Inter non farà ecco non farà c'è qualche rischio su Scalvini però alla fine penso che l'Inter abbia capito cioè lo sappia perfettamente Inzaghi che a destra c'è bisogno di uno un po' più rapido e quindi non penso che si vedrà questa roba qua per fortuna perché altrimenti tra l'altro l'Inter rischia veramente l'Europa League ma come qualcuno diceva nel gruppo Sub a parte rischiare il fallimento ma rischiamo l'Europa League cioè non siamo efficienti tatticamente non siamo giusti messi giusti in campo tecnico tatticamente quindi poi se non sei efficace se non sei funzionale se anche i giocatori Ulian Aleva è un giocatore forte ma se non sei funzionale tutto non 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 giri e quindi non fai i punti che ti servono e quindi poi rischi veramente forte se gli altri fanno bene mi dispiace un po' nel senso dispiace perché faccio il futuro è cattivo però nel senso che non volevo io pensavo che invece di trovare delle idee nuove a cui non avevo pensato l'ho detto anche all'inizio magari sai un giocatore che non hai pensato che può succedere ci sono tantissimi e invece no ho passato un po' tutta la linea mi dispiace però ragazzi questo avete voluto sta reaction e quindi l'ho fatta spero che vi sia comunque interessata e che sia stata a questo punto di spunto per capire un po' di più come funziona il calcio la tattica la tecnica il discorso economico poi magari approfondiremo meglio se avete dubbi su altri video seguitemi che queste cose le spieghiamo settimanalmente tutte le volte da cinque anni che faccio un lavoro di divulgazione quindi insomma spero che sempre di più attecchisca spero che Seekwolf non si rattristi insomma tra virgolette delle reazioni purtroppo un po' dove ho bocciato un po' ho bocciato un po' su tutta la linea ero partito super positivo cioè super no però positivo invece così spero che insomma non se la prenda e anzi se ha bisogno di chiarimenti su cose che magari ho spiegato che non ha capito non sono stato chiaro sono assolutamente a disposizione perché come sapete il mio obiettivo è sempre divulgazione fare informazione spiegare cose che purtroppo non vengono spiegate soprattutto ai giornali o in generale dagli di formazione e quindi io sono sempre qua a disposizione di chi vuole capirne un pochino di più per quello che posso servire ovviamente per quello che posso raccontare ragazzi vi saluto vi abbraccio e domani finalmente arriva il contenuto che voglio io cioè le pagelle di fine stagione e poi ne avremo per il mercato faremo scouting faremo proposte e quant'altro e niente ci vediamo prestissimo forza inter e un saluto a tutti quanti grazie a tutti grazie a tutti